MD Assicurazioni è un'agenzia assicurativa che lavora sul campo assicurativo in Trentino, come vedete, dal 1973. Ci rivolgiamo a tutta la clientela, quindi dalla vita privata, dalle persone private, dalle aziende, tutte quelle che, veramente tutta la popolazione che abbiamo intorno a noi. Oggi siamo qua anche a questa fiera perché rappresentiamo, oltre che la sicurezza sul trasporto, anche una tutela legale per quanto riguarda le persone che svolgono l'attività di servizio di vigilanza, polizia e quant'altro. Poi abbiamo altre sottocompagnie, come potete vedere, con le quali collaboriamo. Sempre finalizzate alla protezione della persona, alla protezione delle aziende, professionali, attività, tutto quello che riguarda il mondo assicurativo. Grazie a tutti.